La cultura del gas, cioè in un mondo dove le banche falliscono, devo sottolineare che in quel caso si giocano un ruolo importante. Ma in quattro paesi? Siamo in quattro paesi, i principali mercati sono l'Italia e la Francia, siamo in 110. Beh, quindi insomma, è una cosa del tutto interessante. E Renati, lei che si occupa di trattura, una compagnia aerea, come è cambiato nel nostro mondo la domanda di acquistare? Beh, diciamo che senza internet non dovremmo esistere, perché internet è il nostro principale canale di vendita. Parlo perché tu, il 98% delle nostre vendite avviene anche online. In Italia, direi 100%, perché abbiamo un Google Center che è sentito dall'indicare, quindi è stata un poca abilità nel parlare di ieri degli italiani, però non sono tutti online. Ma questo vale, posso perdere, ma per tutte le locuose. Io ho iniziato a lavorare in questo mondo dieci anni fa e in Italia, l'epoca, vendevamo online il 50% dei voli. In questo momento c'è una proporzione completamente inversa, quindi il 98%, il 99% delle compagnie, il 100% dei voli viene vissuto attraverso questo canale. ormai è un agente che si è abituati ad attivare, come lì, non si parla di tutti, ma non si parla di tutti, perché è un compagnie lo posto online. Sanno che è l'unico modo, non lo stanno, però per noi è l'unico modo per riuscire a mantenere i conti, c'è un'altra cosa che è effettivamente l'altra, perché noi c'è tutti questi tipi di distribuzioni, quindi per noi è un canale vitale. Vitale, senza internet. Non potremmo essere internet. Però voi vediamo con un'altra compagnia aerea, e i voli online hanno avuto un po' molto importante, perché hanno convinto le persone a fidarsi e ad avere una carta di credito, perché quello è stato il vostro blocco, con un altro tipo di conna, se la persona poi non si fila a dare il numero della sua carta di credito, i voli sono finiti. Perché si fila a cui voli, poi si imponga, si è fila magari a un viaggio, si è fila a cui si capisce che il rilascio della rete è il vostro manuolo. Sì, devo dire che grazie anche a portare gli attivi quale è tutto il loro, con la graphics, aiuta le cose anche per noi compagnie, soprattutto se la compagniamo è italiana, perché noi abbiamo un sito in italiano, però praticamente non esistiamo sul territorio, mi credo, magari si percepita come un'organizzazione italiana, in Italia, quindi questo aiuta anche noi, a cui sto regolarmente pulita, fino a quando si partecipano, ma se volete, è un modo di ottenere i beneficiari. Grazie. 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 Grazie.